ciao a tutti ragazzi qui come sempre il vostro ara e benvenuti in questo nuovo video ebbene sì ragazzi finalmente è arrivata una delle figure più attese di sempre in questo pacco ci sono alcune copie di quella figure la potete trovare come sempre sul mio sito ara shop nel link qui sotto in descrizione fate in fretta ragazzi perché questo sparisce subito ed è un miracolo che non sia già sparito in preordine in realtà era sparito fortunatamente grazie ai miei contatti sono riuscito a trovare un po di copie per metterlo in vendita anche dopo perché altrimenti sarebbe già tutto prenotato andiamo ad aprire il nostro pacco ragazzi eccoci qua stiamo parlando stiamo parlando di una figure iconica di un personaggio super iconico in una versione incredibilmente iconica ragazzi eccoci qua che all'interno di questo pacco è arrivato lo spider man nero eccolo qua ragazzi lo spider man chiaramente per la linea marvel legends classic o retro eccola qua con diciamo la confezione della serie animata ragazzi questa figure è assolutamente da avere a tutti i costi possibilmente in realtà sarebbe da prendere in doppia copia una da tenere chiusa in confezione una da aprire perché chiaramente è una figure che andrebbe aperta per vedere come si aprono queste confezioni senza rovinarle vedete il mio tutorial su instagram trovate proprio il video il reel nel mio instagram c'è chiaramente il link qui sotto in descrizione ragazzi che dire questa figure sprizza anni 90 da tutti i pori guardatelo qua la asbro ha fatto veramente un bel lavoro in questi nuovi corpi di spider man mi rimangio tutto quello che avevo detto quando avevo criticato diciamo le confezioni per un determinato motivo se volete andare a vedere quel video comunque ragazzi eccolo qua pazzesco con anche l'immagine che sprizza anni 90 da tutti i pori così come anche chiaramente la confezione ovviamente io guardo sempre l'orologio perché nell'orologio guardo l'immagine che vedete voi bellissimo ragazzi non c'è nient'altro da dire questa è la wave che è quasi completa manca solo l'arrivo di hobgoblin hanno fatto veramente una wave stratosferica ragazzi quindi questo è lo spider man nero prendetelo prima possibile ragazzi e prendete anche questo ragazzi finché ancora disponibile quello di ben ray lee perché la asbro sta tirando fuori tutti gli spider man e quindi è essenziale averli tutti chiaramente allora ragazzi lo trovate sul mio sito a rush shop chiaramente vedremo la recensione sul canale fatemi sapere se la volete ne aprirò assolutamente una copia per vedere di che pasta è fatto non potevo non avere anch'io lo spider man nero in collezione per completare appunto tutti gli spider man e anche perché ripeto quello in versione nera è uno dei più iconici in assoluto se non il più iconico in assoluto dopo il costume classico quindi non c'è altro da aggiungere detto questo ragazzi ci vediamo presto con la sua recensione vi ringrazio sempre per la visione ciao da ara collezionate sempre